In questa lezione affronteremo l'argomento delle slow powers, ovvero dette anche frecce delle pendenze. È uno strumento che ci consente di determinare, data una superficie in analisi composta da un insieme di triangoli, quali sono le pendenze dei triangoli stessi. È impiegato ad esempio per determinare dove defluirebbe l'acqua nel caso si tratti ad esempio di una pavimentazione. Infatti andremo ad osservare proprio ad impiegare il comando sulla pavimentazione di questo modello tridimensionale che è la piazza, piazza del popolo di Sacile in provincia di Pordenone. Ok, ora ovviamente affinché il comando possa essere impiegato in modo proficuo sarà necessario che il modello tridimensionale della pavimentazione in questione sia realizzato con un sufficiente livello di dettaglio. Apriamo l'interfaccia del comando e come possiamo vedere sono definiti una serie di intervalli, a ciascuno dei quali viene associato un determinato colore. Possiamo modificare questi intervalli. Gli intervalli, come potete vedere, sono rappresentati da una pendenza minima e una pendenza massima, entrambe espresse in percentuale, entro le quali se quel triangolo in esame ha una pendenza che cade all'interno di questo intervallo di pendenze percentuali, allora gli verrà associata una freccia di quel colore. In questa maniera noi riusciremo a sapere non solo qual è la direzione della pendenza, ma anche il valore di pendenza. Infatti riusciremo ad identificare a livello visivo quali sono le zone a pendenza più bassa, quindi di colore rosso oppure arancione, o con pendenza più elevata, quindi verde, ciano o addirittura blu, che va dal 12% in su. Ora per determinare, calcolare la pendenza ad esempio di questa zona qui, possiamo intervenire in due modi. Il primo è quello di andare ad isolare, disegnando con un poligono, la zona dove vogliamo intervenire, senza quindi dover spegnere tutto il resto. Questa è chiaramente la soluzione più comoda, ma ovviamente potrò impiegarla solo per una parte della pavimentazione. Dunque facciamo un esempio. Per comodità possiamo spegnere le texture perché in questo momento non ci servono per l'analisi. E quindi andiamo qui sul gestore dei layer e spegniamo tutte le texture. Ok, dopodiché per comodità possiamo anche impiegare lo stile di visualizzazione wireframe, che ci consente di identificare meglio le frecce una volta che saranno disegnate. Ora cliccando su seleziona e calcola andremo a disegnare. Lo snap in questo caso non ci serve e andiamo quindi a disabilitarlo. Andremo a disegnare una zona, a selezionare una zona all'interno di una polilinea che disegniamo come una serie di vertici con il tasto sinistro del mouse. Quindi tasto destro, chiudere polilinea. E abbiamo quindi disegnato la zona dove andare ad eseguire il calcolo che parte, come vedete, immediatamente. Infatti notate qui sotto chi sta eseguendo il calcolo. Al termine del calcolo vedete che sono state disegnate una serie di frecce che indicano la pendenza di ogni singolo triangolo. Quindi la direzione, la freccia indica la direzione della pendenza del triangolo, mentre il suo colore indica l'intervallo a cui appartiene. Qui, ad esempio, tutta questa zona di frecce verdi non solo indica che l'acqua, l'eventuale acqua, defluirebbe in questa direzione, ma indica anche che la pendenza di questa zona è racchiusa in un intervallo che va dal 4% all'8%. Se volessimo analizzare invece tutta la pavimentazione, quello che dobbiamo fare è, allora, per resettare, diciamo, il calcolo attuare basterà cliccare su cancella. Dopodiché dovremmo andare ad isolare preventivamente solo ed esclusivamente la pavimentazione delle zone che ci interessano. Quindi andremo sul gestore dei layer, facciamo cancella selezione per essere sicuri che non ci fosse nulla di già selezionato. Dopodiché con lo strumento di selezione faremo una selezione con polilina in modo tale da essere sicuri di comprendere tutti gli elementi che ci interessano. Selezioniamo la zona, gli elementi dei layer che ci interessano, controlliamo che siano toccati dalla selezione. In questo caso sono solo tre elementi di pavimentazione 1, 2 e 3. C'è un'ulteriore pavimentazione che è la 4 che è probabilmente quella che corre lungo, appena a ridosso di questo porticato. Lo possiamo eventualmente andare ad aggiungere con la selezione manuale. La selezioniamo e quindi abbiamo quattro elementi di pavimentazione. Li isoliamo, spegniamo la texture che in questo momento non ci interessa. Benissimo, e questa è tutta la pavimentazione della nostra piazza. Possiamo chiudere il gestore dei layer e a questo punto sarà sufficiente, non servirà più andare a selezionare e calcolare, ma lancieremo direttamente il calcolo. Bene, al termine del calcolo, come potete vedere, sono state inserite le frecce su tutta la pavimentazione che abbiamo isolato con lo strumento di gestione dei layer. La dimensione delle frecce viene determinata, diciamo, con dei valori di base in rapporto alla dimensione dei triangoli. Infatti, come potete vedere, se il triangolo è più grande, la freccia avrà una dimensione maggiore rispetto a quella dei triangolini più piccoli. Quindi, si autoridimensiona, possiamo dire, in base alla dimensione del triangolo in esame. Ma possiamo comunque chiedere al software di incrementare, se lo vogliamo, la dimensione delle frecce. Quindi, ad esempio, portiamo ad un fattore 2 o addirittura ad un fattore 3, ma ovviamente dobbiamo rieseguire il calcolo per vedere le modifiche. Potete vedere che ora le frecce addirittura sbordano dai triangoli, ma dal punto di vista, se dovessimo analizzarle da un punto di vista più, diciamo, più lontano, probabilmente ci garantirebbero di essere maggiormente visibili. Ad ogni modo, una volta che avrò scelto il mio intervallo corretto, le mie colorazioni desiderate, e quindi avrò calcolato in una zona oppure su tutta la pavimentazione che ho isolato, le mie slow parallels, a quel punto potrò andare, potrò eseguire, ovviamente restando all'interno di SQ Pro, delle simulazioni visive. Per esempio, con lo strumento immagini o filmati, realizzare delle immagini o dei filmati che illustrano visivamente qual è in pratica la situazione di deflusso delle acque. Però, se dovessi poi impiegare queste frecce all'interno di un CAD, per esempio, per realizzare una tavola o quant'altro, allora potrò andare ad esportare i miei dati in DXF, chiaramente specificando il nome del file. Salviamo. Al termine del salvataggio, se ora andiamo sul desktop, potremmo vedere che c'è il file slow parallels appena creato. Doppio clic e verrà aperto con il programma associato all'apertura dei file DXF, che in questo caso specifico si tratta di BricsCAD. Ed ecco quindi che noi troviamo all'interno del CAD tutte le varie frecce espresse come poliline 3D, che rappresentano appunto le nostre slow parallels. Bene, tornando quindi ad EaseQ Pro, una cosa molto interessante per andare ad eseguire poi eventualmente le varie simulazioni visive, può essere quello di, utilizzando il gestore dei layer, riaccendere tutto il modello. Magari solo per quanto riguarda la pavimentazione che, come abbiamo visto prima, quindi va da pavimentazione 1 a pavimentazione 4, andiamo a spegnere le texture. Bene, nel prossimo tutorial affronteremo lo strumento dei Drop Plane.